Ancora importanti risultati per gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Sacco di Sant'Arsenio. La scuola infatti ha annunciato nuovi e graditi successi alla terza tappa del Gran Premio Barman domani, svoltasi ieri presso l'Ipsar Piranesi di Capaccio Pestum. Risultati eccellenti sono stati raggiunti in particolare da due studenti. Daniele Citera, della classe terza B, indirizzo sale e vendita, sostenuto dal professore Michele Freda, ha ottenuto la quarta posizione nella categoria I-BES e Anna Resciac, studentessa sempre della terza B, sale e vendita, tra l'altro la più piccola dei concorrenti per età e alla sua prima esperienza in gara, è arrivata quinta nella sezione Premio Maurizio Russo. Il Gran Premio Barman domani, patrocinato dalle associazioni I-BES e IBA, si svolge in varie tappe presso gli istituti professionali della campagna con lo scopo di educare i giovani al bere consapevole e i protagonisti sono gli studenti degli istituti alberghieri. Lo studente Daniele Citera, del Sacco, era già risultato vincitore assoluto e medaglia d'oro nella categoria I-BES alla seconda tappa del Gran Premio Barman domani, che si è svolta il 17 gennaio scorso presso l'Ipseo a Lucio Petronio di Monte Ruscello. Con la terza tappa di ieri, dunque, è arrivato un altro importante risultato per Daniele Citera e per la compagna di classe Anna Resciac. L'Istituto Sacco, oltre a complimentarsi con i due studenti per il quarto e quinto posto ottenuti, si complimenta anche con Domenico Soccodato, quarta di sala e vendita, Simona Izzo, quinta B, sala e vendita, e Danila Giannina, quarta di sala e vendita, che hanno contribuito al successo dei compagni con il loro prezioso aiuto. Un ringraziamento particolare, infine, la scuola lo rivolge al professore Pasquale Masullo, docente di sala e vendita, e agli studenti che hanno affrontato il concorso grazie alla sua guida attenta e competente.